Mio signore, le porto notizie di Star Wars. Or dunque è scoperto di chi si tratta. Dimmi chi ha osato. Renderci per il culo. Ma autore, ancora ignoriamo chi sia. Sappiamo solo che si tratta della versione interamente ritoppiata di Star Wars. Questi segagnoli non hanno proprio un cazzo da fare tutto il giorno. Trovalo e distruggilo. Lui è il suo film. Se questa roba comincia a girare siamo fottuti. Sarà fatto.